Interessi di ciò che... Continua il dibattito sull'ipotesi di fusione dei comuni di Scanzano, Ionico e Policoro. L'iniziativa, partita ufficialmente a fine agosto con la presentazione del Comitato Promotore alla Stampa, prosegue la sua roadmap di incontri per illustrare alla cittadinanza tutte le idee in merito. Ieri sera, nella fattispecie, alcuni tra coloro i quali hanno partorito l'idea, ossia Antonio Di Sanza, già consigliere regionale e sindaco di Policoro, Mario Altieri e Antonio Gallitelli, già primi cittadini di Scanzano, Ionico, hanno organizzato un'assemblea aperta proprio nella Palazzo Baronale a Scanzano. Praticamente quali opportunità, in senso pratico, in senso economico? Ci sono delle opportunità economiche che ci vengono direttamente dal trasferimento dei fondi del governo perché stanno incendivando a livello nazionale l'unione tra i comuni, quindi ci sarebbe un 20% di trasferimento da parte dello Stato in più, ma poi ci sono delle opportunità, una spinta propulsiva anche di ingoraggiamento alle nuove generazioni, per intraprendere delle iniziative, avremmo 20 km di litorale sui 40 che la regione ha, sul mare, quindi opportunità di sviluppo turistico e commerciale. Qui parliamo dell'area più forte economicamente di tutta la regione, cioè non siamo la provincia di Potenza, una provincia e una città di Potenza completamente che si basa sull'assistenzialismo e sul posto pubblico, ma diciamo il Metapondino insieme a Matera rappresentiamo la vera forza economica della regione. Venerdì inoltre nelle due comunità è partita una raccolta firme per una petizione popolare che eventualmente solleciterà in un secondo momento i singoli comuni ad indire il referendum della fusione. Ma cosa ne pensa l'attuale sindaco di Policoro? È un tema che non mi affascina assolutamente in un momento difficile delle comunità. Noi possiamo dire sì all'unione dei servizi, ma i campanili hanno avuto un senso e devono continuare ad avere un senso, quindi io sono nettamente contrario a questa unione, anche se, ripeto, essere favorevole all'unione dei servizi può essere un qualcosa di utile per le comunità. La storia d'Italia è fatta da tanti campanili con tante specificità. Io le specificità non le voglio cancellare, anche perché Policoro è una città che sta nascendo con delle sue specificità, perché cancellarle?